e hola a tutti raga benvenuti nei miei nuovi video sono il vostro canicone e iniziamo con 3 2 dove nello scorso episodio ho dovuto fermare un camion pieno di armi ma sto esplosivo però questo camion è esplosivo vieni qua, vieni qua, non mi scavi devo fermare quest'altro camion esplosivo si lancia bombe mi prese, mi prese fermati, 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 fermati oh, fermati il camion via andiamo puoi portarlo al sicuro andiamo un po' la mappa, ok puoi portarlo al sicuro questo camion via anche se è danneggiato, io devo portarlo lo stesso ok ho potuto vedere già volte la mappa come ho dimenticato assolutamente è tutta dritta alla fine la strada cioè anche se sto andando in contromano eh comunque va bene anche se sto andando in contromano nooo mi sono accorto della macchina che arrivava e mi sono andato addosso nooo nooo e non si sio sio però sio veramente siamo al limite c'è ancora due o tre colpetti camion va via si sfascia aiuto vai aiuto via vediamo si ah io ho toccato sto facendo zig zag col camion cioè rendiamoci conto che sto facendo zig zag col camion sono rientrato nella strada principale ah avete ancora un colpettino finisce la storia via rischio 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 rischiando veramente mamma mia ancora un colpetto io ricomincio ok ce l'ho fatta che culo ok raga se vi è piaciuto questo episodio lasciate la mi piace link in descrizione dei miei social iscrivetevi al mio canale 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 iscrivetevi al mio canale